Oggi ho presentato la situazione corrente sui materiali cosiddetti cool, cioè sui materiali a elevata riflettanza solare in grado di ridurre il surriscaldamento estivo degli edifici in virtù di una elevata capacità di riflettere la radiazione solare incidente. Ecco, questi materiali stanno proprio in questi mesi, direi non anni, conoscendo una notevole evoluzione sul piano normativo italiano, perché cominciano a essere finalmente previsti dalle norme, cominciano ad essere disponibili sul mercato materiali certificati. Noi infatti siamo un laboratorio che opera in regime di accreditamento ISO 17025, proprio nella certificazione di questi materiali alta riflettanza solare. Oggi ho cercato di portare l'attenzione del pubblico il problema della durabilità, cioè della resistenza all'invecchiamento. E ho presentato alcuni studi che stiamo facendo, alcune attrezzature nuove e sperimentali che abbiamo realizzato, tra l'altro qui intorno all'Agenzia per l'Energia, che servono a verificare qual è la risposta sul medio e lungo termine di questi materiali all'esposizione agli agenti atmosferici.